Grave incidente questa mattina tra Seriate e Bergamo sull'autostrada A4. Un uomo di 41 anni è rimasto gravemente ferito. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri di Bergamo e i tecnici della società autostrade. Forti i rallentamenti registrati. Anche il comune di Lodi ha chiesto ufficialmente un passo indietro a Claudio Tedesi. Lodigiano, vicepresidente di Linea Group, Tedesi è indagato da mesi dalla magistratura. Il sindaco di Lodi, Simone Ugetti, si è rivolto al sindaco di Pavia, comune per il quale Tedesi è in consiglio di amministrazione di Linea Group per sollecitare le dimissioni dell'indagato. È ricoverato in gravi condizioni al Papa Giovanni di Bergamo il 64enne ciclista che è stato investito da una vettura a Rondò della Fiera di Bergamo. L'uomo è stato urtato con violenza e scaraventato a diversi metri di distanza. Sfondano nella notte la vetrata del negozio di telefonia di Via Da Vinci a rivolta d'Adda e rubano ben 43 telefoni cellulari e tablet. Si parla di un bottino da 17 mila euro oltre ai danni al negozio. Indagano i carabinieri. Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni a riguarda di Milano. La piccola è stata investita da un'auto in Via Bramante a Cinisello, sul posto la polizia locale. Si è parlato di qualità degli alimenti nel convegno che a Lodi ha aperto l'edizione 2014 della Fiera di Borghetto Lodigiano. Nella sala convegni del Parco Tecnologico Padano si sono confrontati in particolare panificatori e macellai. Per tutti l'imperativo categorico è di assicurare alimenti buoni e sani. Mentre in sala convegni si discuteva, panettieri e macellai hanno preparato nei laboratori di Alimenta Italia prodotti da forno e salsiccia lodigiana. Una donna di 62 anni è precipitata dal quarto piano di una palazzina di Noverasco, frazione di opera. La donna è morta sul colpo. Le forze dell'ordine stanno cercando di appurare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Cambio della guardia ad Art Fidi Lombardia. Il vicepresidente Lodigiano Luigi Milano lascia l'incarico. La decisione è stata comunicata nel corso dell'incontro di presentazione del bilancio 2013 del Consorzio Fidi. I numeri parlano ancora di un settore, quello dell'artigianato, tuttora in crisi. Un milione e mezzo di euro destinati alle imprese lodigiane e un milione e trecentomila al funzionamento interno sono i numeri del bilancio 2013 della Camera di Commercio di Lodi. Rispetto al 2012 si registra un incremento dell'8% delle risorse destinate alle imprese. Un 26enne di Chiari è stato denunciato per truffa e furto alla procura di Cromona. A Crema ha fatto firmare un contratto ad una pensionata di 83 anni carpendole la fiducia e la poi derubata dei gioielli trovati in casa. Fine settimana all'insegna della danza moderna Lodi. Nell'auditorium e nel piazzale interno della Banca Popolare sabato e domenica sono in programma incontri, spettacoli, esibizioni e mostre dedicate al variegato mondo dei balli contemporanei. Si va dall'hip hop al tip tap, dal musical alla danza sportiva, dal modern alla danze etniche. Il festival è organizzato da Modern Dance con il patrocinio del comitato di Lodi dell'Unione Sport per Tutti. È ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele di Milano l'operaio di 38 anni rimasto gravemente ferito in un infortunio a Sant'Angelo Lodigiano. L'uomo stava smontando un'impalcatura all'ospedale Delmati quando è stato travolto da un'asse sfuggita di mano ad un compagno di lavoro. In mostra a Cremona le opere dell'artista bresciana Ornella De Rosa. Ritrattista ama dipingere in particolare soggetti femminili alle cari attraverso i quali scoprire la straordinaria bellezza interiore della donna. I volti descritti dalla De Rosa sembrano quasi uscire dai quadri. ha ribadito il critico d'arte Gianluigi Guarneri presentando la mostra al pubblico cremonese. Le opere di Ornella De Rosa resteranno in mostra nei locali di immagine e spazio arte fino a sabato 10 maggio. È di circa 3.000 euro il bottino della rapina avvenuta al motel di Corneliano Laudense. Un uomo con pistola in pugno ha minacciato il portiere e si è fatto consegnare il denaro in cassa e poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. Indagano i carabinieri di Lodi.